Un video velocissimo per dirvi che sono estremamente felice della nomina di Marcello Foa a Presidente della RAI, finalmente una voce indipendente nell'informazione, sembra incredibile, sembra troppo bello per essere vero, neanche dal Movimento 5 Stelle o dalla Lega mi aspettavo una mossa del genere tanto radicale e speriamo che l'informazione finalmente cambi un po', non mi faccio tante illusioni, io ho già paura che nel giro di alcuni mesi lo facciano fuori in qualche modo, troveranno il modo per sostituirlo perché chiaramente è un volto che non piace alla Nato e ai nostri alleati, va bene ma stiamo a vedere e speriamo per il meglio, ciao ciao! Grazie a tutti!